Allora, questa spiaggia è qua. Io ho fatto una posizione popolare per sensibilizzare i proposti che hanno determinato la cittura di questa spiaggia, però non mi hanno mai scontato. Non hanno interesse, non hanno volontà. E dico, ma perché noi dobbiamo aprire la spiaggia per mare o da qui? Invece qua, ecco, tutti i quadri a fare i panci. Qua da qui è tenuto. C'è la vera zona più scesa, più pericolosa. Se invece dobbiamo mettere delle reti di protezione è in modo che si vedeva finita la spiaggia con il parchino. Poi c'è il raccolto prezzo di questo. Quindi si purificava, secondo me, sulle 5 terre ed era tutto regolamentato. Tutti lavoravano. Preggio le stupine, tutto lì, tipo due elettrici. Quindi ecco, ci faccio fare. Non vogliono fare le mani, ma tutti ce la vogliono fare. Tutto la stessa.